e ciao a tutti bene ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video da dome pc ed oggi ci troviamo davanti ad un computer fisso e con una nostra chiavetta in particolare la tp link ac600 una chiavetta wifi sì perché voi che avete delle attività lavorative avete un computer portatile non funziona la scheda di rete per cioè non riuscite a connettervi al wifi oppure avete un computer fisso che non ha la scheda di rete per potersi connetter in wifi per poter stampare oppure magari evitare tutti quei cavi di rete a collegarli e farli passare attraverso muri e stanze eccetera tutto così semplificarlo grazie a questa fantastica chiavetta della tp link una chiavetta che andiamo a fare subito l'unboxing ed ecco qua tp link ha portato per voi che avete delle attività e avete computer sia windows sia mac questa fantastica piccola e potente chiavetta usb all'interno della scatola ecco qua escono vabbè il cd di installazione dei driver poi abbiamo vabbè addirittura la guida sia in italiano inglese altre lingue per l'installazione e e poi abbiamo eccola qua sembrerà che sia una chiavetta del tutto in influente però ed eccola qua in tutto il suo splendore una piccola chiavetta 2.0 togliamo appunto le etichette che escono nel suo pacco originale e supporta una multibanda 2.4 e 5 gigahertz della vostra wifi e si può collegare in vps oppure semplicemente mettendo la password nel vostro pc sia fisso sia portatile windows e mac e poi così amici guardate qua nella scatola addirittura escono naturalmente le caratteristiche della velocità quindi se in base alla vostra velocità che avete a caso cioè il vostro modem se avete fibra o la la connessione in rame io per esempio una 200 mega a casa ecco qua dice se si collega 5 gigahertz la velocità massima sarebbe 433 mbs però questo qua il caso specifico della fibra 200 mbs su 2.4 e amici andiamo a vedere subito la sua installazione perché è molto semplice allora cosa facciamo basta semplicemente individuare una porta usb del nostro computer che sia 2.0 3.0 è la stessa cosa ecco qua i driver senza connettervi a internet o senza lanciare per esempio per windows il cd di installazione infatti lo metto nella scatola già li va a prendere in automatico lasciategli il tempo di 30 secondi dobbiamo semplicemente andare qui su questa icona in basso ecco qua come potete vedere dice non c'è rete perché non è collegato il cavo ethernet dietro al pc nostro in questo caso il nostro pc fisso però ecco qua già ha fatto la scansione delle reti che la chiavetta usb riesce a individuare allora come fare per connettersi al nostro modem di casa in wifi semplicissimo in questo caso il mio è un fritzbox 7590 l'abbiamo visto rivisto nei video che del mio canale e basta semplicemente fare un tasto sinistro eccolo qua e fare connetti dovete prendere la vostra password che è sotto appunto il modem della vostra casa eventualmente l'avete cambiata beh potete connettere col vostro modem con questa chiavetta col pulsante vps che si trova appunto nel modem di casa o caso mai guardate questo simbolo qua ecco qua io in questo caso vi faccio vedere anche come semplicemente collegarla col vps senza conoscere la password andando a premere i giusti secondi del pulsante vps del mio modem per i fritzbox basta premere un secondo il pulsante vps per il modem team 3-4 secondi ed ecco qua abbiamo ora la connessione al nostro fritzbox andiamo ora su google calcolate che io sono distante dal mio modem attraverso muri di casa circa 8-9 metri pure di più ecco qua andiamo ora a fare lo speed test andiamo anche con questo gestore qua calcolate che comunque la mia rete è in rame a 200 mega quindi la team mi ha fornito questo mamma mia cioè non pensavo che fosse questa la potenza siamo a 44 43 mbs al secondo in download ora è sceso poi risale quindi non è male per una connessione in wifi non è male assolutamente vediamo in upload cioè quando andiamo a caricare dei video eccolo qua 13 14 mbs al secondo 14 quasi tocca al punto del 15 va benissimo guardi veramente va bene amici ok a fine di fare appunto lo speed test la media 37.25 in download in upload 11.88 ok quindi già ho risolto il mio problema di connessione in wifi del mio pc fisso o windows col mio modem ebbene amici lascio qui sotto al video dei link amazon per poter comprare la chiavetta oppure chiavette sempre della stessa marca molto utili e potenti e se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale dubbi domande scrivetemi qui sotto che risponderò appena posso un saluto a tutti ciao